Musica Lei è qui al meeting di Rimini, un'impressione sul meeting di quest'anno? Ma sicuramente, come per gli altri anni, è sempre un bel appuntamento, un appuntamento per, io direi soprattutto per rincontrarsi, un appuntamento per riflettere, un appuntamento per guardarsi anche dentro. Sembra paradossale questo con tanta gente, però penso che sia importante questo. E il tema di quest'anno? Secondo me questo interrogativo, questa domanda straordinaria che Mario Luzzi pone al suo cuore è un po' la domanda che dovremmo porci un po' tutti quanti noi, nel senso che la mancanza di cui facciamo esperienza, la facciamo esperienza un po' tutti di una mancanza, dobbiamo cederci se questa mancanza poi è finalizzata a, diciamo, a renderci inattivi, a paralizzarci, o se invece quella mancanza può diventare, come cercherò di dire oggi, può diventare invece un volano straordinario per farci guardare avanti, per farci veramente orientare verso le frontiere nuove, quelle che poi che Cristo ci ha indicato. Qual è la cosa che l'ha colpita di più della mostra che ha visto di Abramo? Ma secondo me il persistere di questo tema straordinariamente biblico, ma soprattutto straordinariamente attuale, quello della relazione. Dio che si relaziona con gli uomini, gli uomini chiamati a rispondere, e a rendersi protagonisti in questa relazione e questa relazione che poi diventa impegno. La sfida più interessante che pone oggi il cristianesimo nel mondo? Penso sia quella di guardare con gli occhi di Cristo la realtà, guardare con gli occhi di Cristo le persone, guardare con gli occhi di Cristo i progetti nuovi che lui stesso ci chiede di mettere in atto.